occorrente materiali necessari per la sua realizzazione per realizzare questa bellissima maglia abbiamo bisogno di un telaio 160x260 di cui dispone la C2000 dell'anecchi che è una macchina sia per ricamare che per cucire si può ricamare sia la maglia che la felpa il procedimento è lo stesso che ti faccio vedere oggi poi ti servirà la griglia a righello una maglia e dei righelli per maglie che come puoi vedere sono di diverse dimensioni a seconda della maglia che devi centrare quindi lo puoi utilizzare per fare qualsiasi tipo di decorazione nella maglia in questo caso a me serve quello da adulto stabilizzatore termoadesivo che come puoi vedere nella parte del retro a questa parte gommata che serve appunto per applicarlo alla maglia in questo caso con il ferro da stiro lo vedremo più tardi questo è fondamentale perché il ricamo venga bello piatto e poi un altro stabilizzatore a strappo per far sì che la maglia rimanga rigida perché comunque tende a essere elasticizzata e poi la chicca di questa volta è l'Avalon questa pellicola che viene solitamente utilizzata per ricamare sugli asciugamani ma è super consigliata anche per le maglie elasticizzate del filo da ricamo poi utilizzato anche quest'altro filo che rimane più grigio più chiaro per fare delle sfumature questo lo trovi nel sito nekyshop.com ed è ottimo un altro segreto e utilizzare lago stretch perché alla punta rotondata che non rompe le fibre della maglia utilizzare i righelli per le maglie per centrare appunto la parte centrale della maglia per avere un punto di riferimento questo è utile per qualsiasi tipo di ricamo o applicazione la griglia righello ci sarà veramente molto utile per collocare il disegno nella maglia dove voglio che il disegno sia posizionato mi segno tutte queste tacche in modo tale da decidere dove verrà ricamato il disegno quindi è utilissimo verrà ricamato la parte centrale proprio in quel punto giro la maglia al rovescio e faccio la stessa cosa di prima quindi posiziono il mio righello per centrare appunto il centro della maglia la posiziono bene con le mani e mi aiuto con un metro da sarto modo tale da identificare proprio la parte centrale e mi segno anche in questo caso con la matita poi prendo il righello quello per posizionare il ricamo proprio al centro della maglia faccio la stessa cosa di prima con la matita mi segno tutti i punti e quello il centro del ricamo adesso dobbiamo applicare lo stabilizzatore termoadesivo al rovescio della maglia quindi cerco di posizionarlo grazie all'aiuto del mia griglia righello nella parte centrale in modo tale che so che proprio è posizionato bene e la parte centrale avrà il suo sostegno dopodiché mi fisso il tutto con degli spilli e poi stiro il tutto in modo tale da applicare lo stabilizzatore termoadesivo alla maglia tutto per bene un altro consiglio che ti voglio dare è quello di stirare la maglia prima di ricamarla in modo tale che venga senza pieghe puoi tamponare il ferro da stiro caldo in questo modo in modo tale che la colla si sciolga e si attacchi bene alla maglia piegare a metà la maglia e stirarla in modo tale che abbiamo un punto di riferimento facile da individuare per quanto riguarda la parte centrale della maglia questo è un piccolo trucco come puoi vedere abbiamo centrato in maniera corretta anche col righello la parte centrale della maglia inseriamo al rovescio della maglia anche lo stabilizzatore a strappo che abbiamo visto prima quindi cercando di posizionarlo proprio sotto la maglia un lavoro un po noiosino però cerchiamo di non avere fretta e poi passiamo all'avalon e questo è un lavoro che impegna un pochino perché bisogna proprio posizionarlo all'interno della griglia quindi prima di tutto bisogna tagliare il pezzo necessario tagliane sempre di più in modo tale che ti possa aiutare a sistemare perfettamente la griglia controllo sempre con la guida righello se si è spostato qualcosa perché abbiamo vari strati quindi bisogna stare attenti che stiamo posizionando il tutto in modo corretto la pellicola idrosolubile chiamata anche avalon viene inserita sopra la maglia per impedire che l'ago affondi dentro il tessuto inserire il telaio nell'all'interno della maglia facendo coincidere le due parti sia del sopra che del sotto che sono evidenziata con una freccetta elimino il righello e sono pronta per ricamare con la macchina ed ecco qui ricordati di sostituire sia il piedino che la placca ago nella bobina inferiore ho messo un filo dello stesso colore quindi nero perché devo ricamare nero su nero inserisco il telaio nel braccio da ricamo accendo la macchina in questo modo seguendo questi passaggi e la macchina incomincerà a muoversi e a posizionarsi nella posizione giusta inserire il telaio nel braccio da ricamo che non sente un click ok la macchina è pronta iniziamo subito a ricamare la macchina è pronta iniziamo subito a ricamare ed ecco qui il ricamo è pronto ed è venuto bellissimo sono davvero soddisfatta apro il morsetto allento alla vite in modo tale da estrarre facilmente il telaio dalla maglia via il telaio perché non ci serve più e adesso ecco qui cosa dobbiamo fare dobbiamo eliminare e quindi estrarre strappare lo stabilizzatore sia strappo che termoadesivo nella parte del dietro della maglia quindi del rovescio elimino anche lo stabilizzatore a strappo in questo modo strappandolo che dà molta soddisfazione a mio parere e tagliamo i fili in eccesso eventualmente se ce ne sono ecco qua strappiamo tutta lo stabilizzatore che abbiamo stirato nella maglia questo potrebbe venire un pochettino più difficile non ci serve perché non abbiamo più bisogno di un sostegno ormai per rimuovere tra l'altro le parti piccole si può usare la pennina in dotazione alla macchina che ha una punta arrotondata e non rischio di bucare il tessuto rigiro la maglia al dritto e come puoi vedere abbiamo ancora l'avalon ovviamente non l'abbiamo ancora eliminato anche questo lo dobbiamo strappare questo è più facile rispetto allo stabilizzatore che abbiamo stirato al rovescio della maglia la maglia è praticamente finita però devo utilizzare un asciugamano che metto sotto la maglia e con un panno umido elimino tutte le tracce dell'avalon che sono rimaste volendo puoi anche metterla a bagno e poi stenderla ad asciugare poi alla fine puoi anche stirare il tutto perché tutte le parti si appiattiscano e la maglia è terminata per avere informazioni sulla c2000 della necchi in macchina per ricamo e per cucito scrivimi in privato per chiedermi tutti i dubbi e le domande io sono a tua disposizione ed ecco la maglia indossata che mi piace tantissimo fammi sapere se piace anche a te iscriviti al canale clicca sulla campanella un bel like un commentino qua sotto anche semplicemente un cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video e buon cucito